Benvenuti alla puntata numero 108 di Piro della Montecitorio, è la prima puntata dopo la pausa estiva, la Camera ha ripreso martedì i propri lavori con lo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni, quindi mercoledì 9 settembre è stata la mattinata la discussione generale su alcune ratifiche e nel pomeriggio alle 3, come di consiglio, l'appuntamento con il question time e quindi abbiamo approvato l'approvazione della proposta di legge sulla commissione di garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Nella giornata di giovedì, nella mattina vi è stata interamente la sessione dedicata alla discussione della relazione della 14esima commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2015, sul programma di lavoro della commissione per il 2015, sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione Europea e sono state poi votate delle risoluzioni e quindi nel pomeriggio abbiamo affrontato alcune delle ratifiche sulle quali è stata fatta la discussione generale. Questo è il quadro degli appuntamenti per questa settimana, nella prossima puntata di Pillola Montecitorio vi aggiornerò ovviamente sui lavori della settimana prossima. Per il momento un buon fine settimana a tutti.